La mattanza estiva dello sballo notturno è appena iniziata, o forse dovremmo dire che non è mai finita. L'ultimo episodio è di soli due giorni fa. A Piacenza due ragazzi da poco usciti da una discoteca sono stati travolti uccisi dalla macchina guidata da una donna ubriaca. E dobbiamo poi ricordare quando il dramma si consuma all'interno del locale. Caso eclatante è quello della Lanterna Azzurra di Corinaldo. La discoteca, piena oltre ogni limite per il concerto di Sfera e Basta, non aveva la capienza adatta a gestire la fuga incontrollata di centinaia di persone. La calca impazzita ha così schiacciato se fan del rapper milanese. E con altri feriti si è conclusa la serata dello scorso 8 giugno, fuori dal locale romano La Bibliotechina, dove un giovane impazzito alla guida di una macchina si è lanciato contro un gruppo di persone. E come metter fine a tutto questo? Se da un lato sono sempre più numerosi i comuni che cercano di fermare l'escalation di violenza notturna, vietando la vendita di alcolici dopo una certa ora, dall'altro interviene direttamente Matteo Salvini. Il ministro dell'interno propone una sorta di bollino blu per i locali con alti standard di sicurezza. In un colpo solo si otterrebbero genitori più tranquilli e gestori di locali soddisfatti. Ma passerà un bollino per scoraggiare i giovani che cercano lo sballo e che per tutta risposta trovano invece la morte o le porte del carcere aperte? E allora Valentina, un tema purtroppo attuale, come abbiamo sentito dalla scheda di Ilaria Marchetti, il problema della sicurezza nei locali da ballo torna a far discutere. La prossima settimana c'è stato un primo incontro tra il ministro dell'interno Matteo Salvini e le associazioni di categoria che gestiscono le discoteche. L'obiettivo è siglare un protocollo che regolamenti il divertimento notturno. E allora, ne parliamo in studio con Giancarlo Banchieri, presidente Fiepet, cioè Fiepet Confesercenti, cioè la Federazione Italiana degli Esercenti Pubblici e Turistici. Benvenuto. Buongiorno. Eleonore Casalegno, in quanto mamma. E da Torino abbiamo Claudio Palomba, il prefetto della città. Allora, Banchieri, lei ha partecipato al tavolo ministeriale della scorsa settimana, ne ho parlato prima. Ci sarà un altro incontro a breve? Cosa vi siete detti? A che punto sono i lavori? Perché poi la stagione incombe, eh? Certo, abbiamo partecipato a questo tavolo e l'intento è quello di rendere ancora più sicuro il divertimento all'interno di luoghi che già oggi rispettano alcune regole. Bisogna cercare di fare prevenzione, bisogna cercare di fare in modo che i giovani possano avere un divertimento tranquillo e sereno all'interno di regole condivise. Il percorso è iniziato e a breve si concluderà. Con interventi molto mirati, che vanno dal maggior uso di alcol test per chi esce dal locale e si mette alla guida, da un sistema di videosorveglianza per accertare cosa sta succedendo all'interno dei locali, ma soprattutto al fatto di un vero divieto che bisogna far rispettare di dare da bere ai minorenni. E io credo che i locali abbiano tutta il vantaggio, la volontà e l'intenzione di rispettare queste regole. Ci mancherà. Allora, andiamo a Torino dal prefetto Palomba. Dunque, questo protocollo vuole garantire ovviamente la sicurezza, ma allo stesso tempo deve garantire degli introiti che sono molto alti. Parliamo di un miliardo di euro in quanto indotto. Ecco, si possono coniugare queste due esigenze, secondo lei? Ma non c'è dubbio che l'obiettivo... Innanzitutto, buongiorno e un saluto a tutti. Non c'è dubbio che l'obiettivo del protocollo, che riprende anche un accordo del 2016, è quello proprio di coniugare sicurezza e salvaguardare gli interessi delle categorie. E questo lo si può fare da un lato, in qualche modo, facendo rispettare nell'ambito del protocollo alcune regole che in parte già ci sono, in gran parte, ma questi strumenti pattizi sicuramente possono aiutare. Mi ricollego agli eventi che avete richiamato. Ad esempio, un piano di illuminazione per quanto riguarda tanto le strutture private e tanto la pubblica illuminazione, come anche uno dei temi più scottanti è quello... Ovviamente non parlo solo di ciò che accade nell'ambito delle discoteche, perché il problema è un po' più ampio. Quello che avviene sulle strade, una sorta di individuazione di rede stradale della notte. Cioè, noi dobbiamo creare una serie di strumenti che, in ogni modo, sia all'interno del locale che all'esterno salvaguardino soprattutto i giovani. Ma salvaguardino anche l'interesse imprenditoriale, l'indotto enorme, per cui c'è una necessità di una serie di regole che in parte già ci sono, ma che con uno strumento pattizio possono essere sicuramente rafforzate. Faccio un esempio. L'obbligo di defibrillatori, la presenza di operatori sanitari nell'ambito dei locali. E ovviamente, quello di cui parlava il Presidente, la necessità di una strumentazione di videosorveglianza, tanto all'interno, tanto all'esterno. Perché uno dei posti, le mie esperienze professionali, tra Rimini e Lecce, mi hanno portato a individuare che i parcheggi privati delle discoteche diventano luogo o di scambio ai fini degli stupefacenti o comunque di sostanze alcoliche. Quindi l'impegno, ecco perché questo strumento, che è uno strumento che vuole essere di partenariato pubblico-privato, sicuramente può essere utile. Allora, Eleonora Casalegno, mi permetto di darti del tu, perché sei un personaggio molto popolare. Quando ho chiesto a Paola Bacchiddu, che ha curato questo spazio, perché Eleonora Casalegno, lei mi ha detto che Eleonora Casalegno ha una figlia di 19 anni, addirittura c'è una mamma giovanissima, ha figlia di 19 anni ed è preoccupatissima, perché la figlia esce e giustamente... Sono preoccupatissima, sono preoccupata, penso, come quasi tutte le mamme, ovviamente, anche perché sappiamo, vediamo, leggiamo cosa succede, no? Non solo in Italia, nel mondo, assolutamente. Prima nel servizio è stato detto che i giovani cercano lo sballo. Ecco, credo che il problema sia questo. I giovani dovrebbero cercare il divertimento, non lo sballo. Detto ciò, l'essere umano ha bisogno di leggi, ha bisogno di regole, anche perché sennò vivremo nel caos. Però non credo che proibire sia sinonimo di educare. C'è bisogno di educare i giovani, educarli alla sessualità, all'alcol, alle droghe, a quello che avviene. Per fortuna è rientrata educazione civica nelle scuole, che era stata abolita, era stata tolta. Forse, ecco, adesso è un argomento che andrebbe un po' ampliato. La società è cambiata, il modo di vivere è cambiato. Quindi dobbiamo insegnare ai nostri figli, ai nostri giovani, come stare al mondo, come vivere, come bere anche, imparare a bere, bere bene. Ma non ubriacarsi, sballarsi, arrivare al punto di non capire più nulla e quindi di far del male a se stessi, ma di ledere anche al prossimo, chiaramente. Quindi è fondamentale quello, ben vengano, certo, delle leggi che regolamentano tutto il mondo notturno, ma credo che alla base, alla radice, noi forse dovremmo educare i nostri giovani. Allora, il prefetto prima parlava di parcheggi delle discoteche che alcune volte diventano proprio uno spaccio anche di bevande. Allora, uno dei punti del protocollo è quello di prorogare la vendita degli alcolici nelle discoteche oltre le tre del mattino. Quindi questo potrebbe essere un punto a favore proprio per evitare che ci sia una vendita illegale di bevande alcoliche? Ma certo, perché il vero tema è quello dell'abusivismo. I giovani ormai si forniscono di alcol ovunque, più che nei locali pubblici e questo è un fenomeno da contrastare. Uno dei punti è anche quello di formare il personale per somministrare alcol in modo corretto. E quindi da un lato c'è un sistema che cerca di regolare l'assunzione e la somministrazione dell'alcol e dall'altro c'è solo l'abusivismo, quindi estendere orario, cosa che peraltro avviene già in tutta Europa, a Soda, noi abbiamo questi limiti. E' una cosa secondo me positiva, perché non è il punto. Il punto è quello che diceva il prefetto, il sistema delle strade, cosa succede? Cioè il punto è non mettersi alla guida nel momento in cui si è bevuto. E questo è il vero tema. E lì vanno educati, vanno educati. Io quando ero ragazzina ricordo, andavamo in 5, in 4, 5 a ballare, quello che guidava, quella sera non toccava un bicchiere d'alcol, uno che fosse uno, perché doveva riportare tutti a casa. Anche quello è un modo, no? E c'è anche tutto un tema di trasporto pubblico e privato che possa aiutare le persone nel momento in cui non siano in condizioni di guidare. Volevo tornare un attimo dal prefetto di Torino, Claudio Palomba. Signor prefetto, secondo la legge sulle disposizioni in materia di sicurezza, la 48 del 2017, sono sempre responsabili i titolari delle discoteche anche quando gli incidenti avvengono fuori dai locali. I gestori per questo protestano, hanno ragione? Ma guardi, il tema della responsabilità oggettiva dei titolari delle discoteche è un tema di cui si discute da tempo. E tra l'altro abbiamo avuto incidenti anche esterni, guardie giurate, eccetera. Queste disposizioni mirano a salvaguardare e al tempo stesso premiare, perché il concetto di premialità si è parlato di bollino blu, con dei criteri che salvaguardino proprio la posizione dei titolari delle discoteche. È chiaro, noi viviamo in un ambito particolare, però sono sicuro che adottando da parte dei gestori locali tutte queste misure, penso che anche il tema della responsabilità oggettiva si vada ascemando. Voglio aggiungere una cosa, ringrazio anche la signora Casalegno, che ha posto un problema, non è solo un problema di sicurezza. Noi dobbiamo educare alla legalità. In un convegno importante, mi piace citarla, fu fatto un manifesto delle regole dei ragazzi e una delle regole era il vero divertimento e ricordarci di esserci divertiti. Cioè la connotazione negativa che si è avuta negli ultimi anni la dobbiamo completamente capovolgere, perché le discoteche, come altri momenti di svago, non devono essere di sballo, ma devono essere di vero divertimento. I ragazzi devono continuare a ricordarsi di divertirsi. Grazie a Claudio Palomba, perfetto di Torino, grazie a Lenoir Casalegno, grazie a Giancarlo Bancheri, presidente di FIPET Confesercenti, la federazione italiana degli esercenti pubblici. Ricordiamo che vi caricano di ulteriori obblighi, però ricordiamo che siete delle imprese che pagano già oltre il 50% di tasse allo Stato sono obblighi in più. Voi volentieri credo vi prestate a tutto quanto, però ricordiamo che siete anche dei contribuenti che fanno il loro lavoro.